Il mondo è abbastanza importante, è di sede, si approveggia il legge della presentazione di una pellicola che tiene questo grande valore, parla della migrazione e vuelvo a dire che stiamo in un mondo complesso e la migrazione è lo spostamento della massa di persone alla ricerca di un mondo migliore, di un luogo migliore e la normalità. Quindi, prima di tutto questo concetto di massaggiare gli italiani, mi pare che è giusto parlare di fare un discorso multiculturale, massaggiare questo, lo che abbiamo fatto chiaramente, parliamo del Dio degli Immigranti Italiani, che è il viernes 3, viernes se non erro, se non la guerra è l'ora, Donde potremmo parlare di Belgrano come discendenza degli italiani, eccetera, eccetera, questo credo che sia una tarea del Presidente, l'architetto Lupiano, parlare del tema di questa associazione degli italiani e anche la festa della festa della festa della festa della Repubblica, che è un atto che si rimonta al referente istituzionale del 1946, dove il voto degli italiani decretò il nascimento della Repubblica abolendo la monarquia. Quindi, cerchiamo di fare che sia una cerimonia che commemori queste due fecce abbastanza importanti per gli italiani, per tutta la comunità. Comunità importante, perché in Chiara del Fuego, in miei circoscrizioni, io tengo 2.500 cittadini, che non sono poco e che stanno crescendo. Però, volvo a dire, è un atto che, a mio modo di vedere, ha un sentimento multicultural dedicato a tutti i migranti del mondo. A noi è un piacere, veramente, poter organizare questo evento cultural di importanza, junto con il signor Consul di Italia, qui nella città, e in forma conjunta e con il supporto della Municipalità, che ci ha facilitato alcuni elementi, per la proiezione di questo documental che si estrena in l'Argentina, al di l'Adi il mare. Lui, avrà una breve presentazione di nostra soprano, che è la secretaria della instituzione, Nati Escobar, e, finalmente, nostro corpo di danza, che si chiama Villa Giovecchio, che va a fare una breve interpretazione di danza italiana. e, bueno, questo evento se va a realizzare in nostra sede, in la calle Marcosar 403, il giorno 2 di junio a le 19.45, e il 3 di junio, anche a la misma ora, se repite. Lo che si pedimos, per il aforo e la capacità del salone, che a quelli interessati, che envien una confermazione di asistencia al mail societaditalianausuaia.gmail.com Es decir, ahí nos confirman e tendremo espacio disponibile. Grazie. Grazie.